Siamo con Elvio Passannante, capitano del Lido e Pirata Calcio a 5, all'indomani della vittoria importante nei quarti di finale dei play-off, ottenuta per 6-1 contro l'Arena Cicerone. Elvio, una partita che vi ha visto condurre praticamente dall'inizio alla fine, tu sei stato l'apripista e anche colui che l'ha chiusa la partita. Quindi un'altra doppietta, non è la prima in questa stagione, per l'ennesima volta hai toccato quota 30 gol in questa categoria che conosci bene seppur sei tornato dopo tanti anni, però cosa ci puoi dire a proposito sia della partita ma anche della stagione in generale? Innanzitutto buonasera, la partita un po' ce l'aspettavamo, comunque la dobbiamo gestire noi, solo noi potevamo perderla, nulla a togliere per carità all'Arena Cicerone, però sappiamo, eravamo consapevoli e comunque eravamo più forti e niente, poi sì sono contento per la stagione, mi fa piacere vedere comunque un gruppo disponibile, unito, che comunque ci aiutiamo l'un con l'altro, poi giustamente ci staranno anche sempre come a tutti i campionati delle difficoltà, questo è normale, però ecco diciamo siamo molto ottimisti a riguardo anche perché siamo arrivati i secondi e pensiamo comunque di meritarcelo senza nessun problema. Senza falsa modestia diciamo così, esatto. Al di là adesso della prossima partita, quindi del prossimo avversario che sarà la Littoriana, peraltro affrontata non più tardi di dieci giorni fa, proprio nell'impianto di Calciappia, in quell'occasione vi siete imposti con il punteggio di 6 a 2, anche se probabilmente sarà una gara più tirata, quindi magari anche un po' diversa, ma facciamo un piccolo passo indietro, per te il primo anno al Little Pirata, dicevamo prima dopo tanti anni il ritorno in Serie D, come hai trovato sia la nuova società che anche il campionato di Serie D dopo tanti anni? Sicuramente il campionato di Serie D è cresciuto perché secondo me anche la squadra più scarsa sa almeno le basi di come difendersi e quindi è anche difficile fare gol. Per la nuova società è una società che comunque si vede che ha voglia, gli piace questo sport e quindi non vedo nulla di diverso rispetto a altre società, anzi è anche abbastanza organizzata, ovviamente pure loro hanno le loro pecche perché comunque il primo anno pure per loro, però l'impegno è la prima cosa quindi loro ce lo stanno mettendo tutta, quindi andiamo bene così per ora, vediamo l'anno prossimo. Benissimo, e tornando invece alla prossima partita, la semifinale da giocare nuovamente presso l'impianto sportivo di Calcioppia a Fondi, quindi ancora per voi tra le mura amiche, una semifinale che può schiudervi le porte per la finalissima, che poi credo sia già da vari mesi il vostro obiettivo, giusto? Eh sì, penso, io credo anche da dicembre, è inutile negarlo, quindi ripeto, siamo arrivati secondi, adesso abbiamo affrontato comunque, secondo me, una bellissima squadra che a me piace come gioca e non sarà una partita facile perché, ripeto, secondo me siamo più forti, però dobbiamo sempre giocarcela, l'importante è soprattutto a fine campionato usare la testa perché è la prima cosa, poi vediamo. Il giudice è sempre il campo, un'ultimissima domanda, un giocatore che quest'anno magari non conoscevi e che ti ha sorpreso della tua squadra e che potrebbe essere decisivo quindi anche sabato? Vabbè, sicuramente Marrone io non lo conoscevo, quindi adesso ci sto giocando insieme, è un buonissimo giocatore, ovviamente anche lui ha delle difficoltà perché comunque non ha mai giocato a calcio a cinque e io penso che se lui impara bene anche i movimenti e roba varia così diventerà molto bravo a calcio a cinque, se vorrà continuare. Bene, dunque aspettiamo con ansia allora la prestazione di sabato da parte di Aleandro Marrone e naturalmente Elvio in bocca al lupo a tutti voi. Trevi.